Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 a causa di una manifestazione è stato chiuso il tratto tra Valdarno e Cisareggello in entrambe le direzioni. In direzione Roma ci sono anche 6 km di coda tra Firenze Sud e Valdarno, in direzione Bologna 3 km di coda tra Valdarno e Cisareggello. In A11 rallentamenti per traffico intenso tra Pistoia e Prato Est, in direzione Firenze. Sulla A12 per lavori in direzione Genova, code tra Il Vivio per il raccordo Lucca-Viareggio e Versilia. Sulla Fipili per lavori 3 km di coda tra Ginestra, Fiorentina e Lastra, signa in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio!